Allora, io sono Fabio Bruschi e sono un operatore culturale di lungo corso. Ho cominciato esattamente alla vigilia del mio compleanno il 18 giugno del 1967. Ero in gita con GS di Rimini in un borgo forse minerario abbandonato subito sopra a Sarsina, una fila di case di qua, una fila di case di là, nient'altro. E allora ho pensato che lì si poteva organizzare una scena western, d'altra parte erano gli anni di Sergio Leone, Clint Eastwood e così via. Allora l'idea passò, poi c'era il problema di come organizzare una battaglia western, divertente insomma. Allora ci sono vari sistemi, c'è quello del numero che uno lo porta qui, l'altro ti vede, comunica il numero e il giudice dice ok, morto, però non è proprio fantastico. Allora l'unica volta che una lezione di chimica al liceo classico Giulio Cesare di Rimini mi è venuta buona, prima e unica. Mi sono ricordato delle cartine al tornasole che reagiscono all'acido. Allora ho detto, bene, prepariamo una tanica, ci spremiamo dentro svariati limoni. I partecipanti al war game, come si sarebbe chiamato dopo, ma all'epoca parlavamo italiano, possono benissimo vedere se hanno colpito o meno il cuore alla cartina di tornasole dell'altro, perché il cuore a quel punto si macchia di rosso. Questa è stata la prima cosa che io abbia organizzato in vita mia. Per il resto, io sono nato il 19 giugno del 1949, per mera coincidenza è la data di nascita del duca di Rimini Sigismondo Pandolfo Malatesta, ma non apparteniamo allo stesso segno zodiacale. Lui è un cancro, come si vede al museo, in quella bellissima gran seola scheggiata. Io invece sono dei gemelli, come si sarà capito, perché nel frattempo c'era stato il passaggio dal calendario Giuliano, Giulio Cesare, al calendario Gregoriano. Avevano mangiato quel par di settimane di giorni, per cui quella volta il 19 giugno era cancro e invece dopo Papa Gregorio era dei gemelli. Il segno che diremmi si attaglia piuttosto bene. Essendo nato nel 1949, faccio parte della generazione che gli anglofoni dicono dei baby boomers, che va più o meno dalla battaglia di Londra, 42, 43, 41, da quelle parti lì, fino addirittura al 64, questo stando agli standard. Io sono nato nel cuore di questo periodo, perché sono nato nel 49. Gli inglesi, che hanno il vizio di registrare le cose, metterle a confronto, hanno calcolato che per un inglese, almeno io non sono inglese, certamente, l'anno più fortunato nel quale si poteva nascere è il 1948. Quindi l'ho mancato di pochissimo, ma c'è una ragione, perché nel 48 abolirono il servizio militare obbligatorio. Quindi quelli avevano un bel bonus. Io sono nato nel 49. Nel 49 l'armata di liberazione entrava a Pechino. Nel 49, quella che per il ventennio avevo dovuto giocoforza chiamarsi Ambrosiana, riprendeva il vecchio glorioso nome di Internazionale Football Club. Sono stato interista, perché i ragazzini della mia via, che peraltro mi vessavano, essendo io piccolo e democristiano, però poi sono cresciuto e alcuni di loro hanno avuto a dolersene, erano tutti giuventini. Il romagnolo medio è giuventino. C'è tuttavia una notevole, o per meglio dire interessante, presenza interista, che per qualche motivo che mi sfugge, era particolarmente presente nel gruppo dirigente del PC riminese. Allora, io aderì all'Inter, e cito Giovanni Raboni, il poeta, per due motivi. Primo, perché Juventus mi faceva schifo, era un nome vecchio, latino, assolutamente non interessante. Internazionale è un bellissimo nome, internazionale. Peraltro l'Inter si chiama internazionale proprio per quello, perché a differenza di quelli del Milan, che volevano giocare solo con gli italiani nati sul padriosuolo, la fazione che poi dà vita all'Inter, diceva no, se c'è uno svizzero che vuole giocare con noi, che giochi, insomma. Il secondo motivo era l'eleganza della divisa, pantaloncini neri e casacca a strisce verticali, azzurre e nere, infatti sono i nerozzuri. Bene, nato nel 49, io sono nato a Viserbella, pensavo che i bruschi stessero a Viserbella, non dico da sempre, ma quasi. In realtà, mio padre IV apparteneva alla prima generazione di bruschi nati lì, perché invece il ceppo dei bruschi viene da San Vito, che è un curioso comune per il fatto che è diviso, il suo territorio è diviso in ben tre comuni differenti, che sono il comune di Rimini, quello di Sant'Arcangelo e quello di San Mauro Pascoli. Tutti i fratelli e le sorelle di mio padre non studiarono, intrapresero attività imprenditoriali, per cui chi aprì un bar, chi aprì una pensione, chi aprì un albergo e così via. E fecero molti più soldi di quelli che mai abbia fatto mio padre. Mio padre, fortunatamente, era nelle grazie del parroco di Viserbella, il quale dopo due anni di stop alla fine degli elementari, siccome mio padre alla lettera non era capace di battere un chiodo, suo padre era Falegnami, i bruschi di San Vito sono Falegnami, non riusciva neanche a battere un chiodo, quindi forse la famiglia ha preso con sollievo che il parroco di Viserbe prendeva bruschi IV, non si è mai chiamato quarto bruschi, sempre bruschi IV, ma d'altra parte mi pare abbastanza ovvio, tipo Viroli I, Brunoli II, Alemanni III, Bruschi IV. Potei studiare, all'inizio era una pratica comune, lo indirizzarono al seminario, poi dal seminario uscì praticamente subito, fece il ginnasio, che allora si chiamava così, prima, seconda, terza, quarta e quinta ginnasio, la quarta e la quinta erano le prime due classi del liceo classico Giulio Cesare di Rimini, che mio padre frequentò, nato nel 1918, quindi si è fatto tranquillamente tutto il ventennio da Cino e poi via, 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 e quindi è stato nello stesso istituto, nella stessa classe dell'avvocato Veniero Ackerman, che è venuto meno pochi mesi fa, in quest'anno di Grazia 2017. Bene, madre, madre Idina Brunori, detta Idina perché il posto di Ida era già occupato in famiglia. Sua nonna, quindi mia bisnonna, si chiamava Ida, Ida Tamagnini in Mazza, cioè coniugata Mazza. I Mazza come clan erano i Ravon e quindi mia bisnonna diventò l'Ida ad Ravon. Mia bisnonna mi tirò su perché la famiglia era numerosa, io il primo genito, ne seguono altri quattro a distanza praticamente di un anno l'uno dall'altro, quindi eravamo una famiglia multiparentale, ma non nel senso che si dice oggi, nel senso che c'erano nella stessa casa quattro generazioni e una dozzina di persone, insomma, per cui porte sempre aperte, vai e vieni, sempre qualcuno in giro, perché mia madre insegnava da maestra elementare, era molto amata dai suoi alunni, è un lavoro che è sempre fatto con grandissimo scrupolo e documentandosi con le riviste, questo, quest'altro e quell'altro. Sia mio padre che mia madre erano cattolici e democristiani e appartenenti alle varie associazioni cattoliche, per cui che fossero le ACLI, mio padre di sicuro, o l'Unione Maestri o qualcosa del genere, o la CISL, per entrambi l'ambito era quello lì. bisogna dire che questo tipo di ambito era del tutto minoritario nella famiglia originaria di mio padre, nei Bruschi, perché suo padre, Antonio, detto Tugnoz, era socialista negnano, quindi poco a che spartire. Analogo, ma diverso, il caso di mia madre, perché al Borgo San Giuliano praticamente la cosa era molto semplice, le donne andavano in chiesa, i maschi no, punto. Siccome parecchi maschi morirono durante la guerra, io ho ereditato le femmine, le quali mi instradavano appunto alla chiesa e molto spesso anche al cimitero, perché Rimini, come è noto, è stata la città d'Italia più distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, non è che lo sappiano proprio tutti, le percentuali variano, ma diciamo che un po' più dell'80% del patrimonio edilizio riminese fu o distrutto o gravemente danneggiato e questo lo dobbiamo al caporale di Forlì, che è il noto diplomato alle magistrali Benito Mussolini, il quale peraltro detestava Rimini, e questa mi sembra una grande cosa per Rimini, scarto della Romagna, rifiuto delle Marche o simili o anche città di affittacamere, sarà bella Forlì, punto. Cursus honorum, io sono stato, e questo è un altro dei non pochi privilegi di cui è costellata la mia vita, una volta si diceva il mio millesimo, diciamo il mio anno è stato l'ultimo a fare tutto il corso della vecchia scuola italiana, quindi le riforme o provvedimenti che dalla fine degli anni 50 con il balenare del centro-sinistra poi negli anni 60 ancora di più hanno caratterizzato la scuola italiana, bene, noi del 49 quelle le abbiamo evitate tutte e vado esamino dal primo al secondo ciclo delle elementari, esame di quinta per il diploma degli elementari, esame di ammissione alla scuola media non ancora unica perché non bastava aver preso il diploma di quinta, davanti a te si aprivano due strade, ho quella diciamo così professionale si fa per dire dell'avviamento industriale tre anni alla fine dei quali non potevi andare da nessuna parte non potevi proseguire gli studi oppure la scuola media prima della riforma del 62 quindi con un latino più importante eccetera bene, esame di terza media passaggio alla quarta e quinta ginasio del liceo classico uno snobismo che gli inglesi avrebbero certamente mantenuto adesso invece il liceo classico questo privilegio non ce l'ha più prima, seconda, terza, quarta, quinta invece all'epoca era quarta ginasio quinta ginasio esame di passaggio tra il ginasio e il liceo dice con commissione interna sì ma composta dai docenti del classico per cui voglio dire non era certamente una passeggiata arriviamo all'ultimo anno che è il 67 68 e anche lì abbiamo la fortuna di farci l'ultimo esame di maturità classico cosa vuol dire? vuol dire che noi all'esame dovevamo portare tutte le materie tutte scritto e orale più i richiami ai primi due anni del triennio che vuol dire praticamente che nella materia letteraria noi dovevamo presentare tutto italiano latino greco eccetera all'epoca infatti gli esami di stato iniziavano in luglio quell'anno iniziarono il 2 di luglio del 68 perché dovendo portare un ammasso di nozioni che era adesso faccio così per via della camera ma era di più per alcune settimane tra la fine delle elezioni più o meno fine della prima settimana di giugno e inizi luglio uno doveva rinchiudersi in convento io andai con Gegé Albini nella loro dimora a vita un palazzo del 500 a San Udecio e lì studiavamo come delle bestie cioè vuol dire che uno si sveglia non so le 7 della mattina fa colazione e mezz'ora dopo comincia a studiare intervallo per il pranzo ripresa vai con il pomeriggio cena e vai con la serata non è pochissimo questa cosa il preside Sergio Ceccarelli che ha governato il liceo classico subito dopo l'anno che ci interessa di più che è il 67 e il 68 e lo governò dal 68 autunno al 89 Ceccarelli quella situazione lì la chiamava fatica e non riesco a trovare un termine più adeguato fatica era normalissimo che ci fossero degli particolarmente al classico ma non solo degli esaurimenti nervosi dei cedimenti proprio per cui uno arrivava in prima liceo che era la vera tagliola dei 5 anni perché già il ginagio era duro ma insomma ancora si ragionava in prima liceo invece vai a diretto contatto con i mostri anche in senso positivo secondo l'etimologia nella mia classe arrivati alla primavera circa un quarto aveva dato forfè prima ancora di essere eliminati con gli scrutini finali solo nel giro delle mie conoscenze e amicizie due persone non sopportavano fisicamente di vedere la scuola uno si chiama Giovanni Zavatta una persona di grande intelligenza faceva il Valturio poi si laureerà in scienze economiche un altro si chiama Iader Viroli faceva il classico come me alla fine entrambi presero il diploma però entrambi a un certo punto di questo percorso fisicamente non riuscivano a varcare l'ingresso questo credo che dia che dia un'idea allora all'inizio dell'anno scolastico 67 68 io avevo 18 anni compiuti come ho detto prima il 19 del giugno precedente avevo dietro di me un background abbastanza classico da ragazzino di estrazione cattolica per via delle cose familiari che ho detto prima e diciamo che all'interno quindi di questa strada abbastanza consolidata ci fu poi l'incontro con l'esperienza di GS gioventù studentesca che era nata in realtà pochissimi anni prima che io ci mettesi piede io ci misi piede nel 64 quindi all'inizio del mio secondo anno di ginnasio era una tre giorni si svolgeva qui vicino a cattolica ed era l'antenata non tanto lontana del ben più celebre meeting per l'amicizia tra i popoli bla 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 bene in quell'occasione uno degli interventi principali fu quello di Don Luigi Giussani detto il gius dato che era di estrazione Lombarda da nord di Milano non mi ricordo mai come si chiama quella zona di immobilieri dove vive in una delle sue residenze principali un presidente del consiglio dei ministri della Repubblica italiana che è uno dei tanti motivi per i quali io non riconosco di fatto questa entità politica esattamente come i palestinesi non riconoscono l'entità sionista e io con loro e niente insomma qui farei una piccola sosta bene ottimo ero arrivato perché stavo perdendo il filo perché ho fatto questo escurso palestina no no ho capito ma ero arrivato ah sì ero arrivato al 64 adesso posso benissimo riprendere andiamo a rete almeno speriamo io sono pronto vado bene dicevo che nel 64 incontrai l'oratoria di Don Luigi Giussani detto il Giuss e mi sembrava che questi qui di GS che avevano 4 anni più di me in realtà avessero una tradizione ma molto più vecchia molto più importante in un certo senso era vero perché GS a Milano nasce nei primi anni 50 in realtà nasce subito dopo la guerra però insomma diventa quello che diventa con Giussani nei primi anni 50 quindi in realtà GS di Milano nel 64 aveva già una dozzina di anni di vita buoni buoni qualcosa di meno GS di Forlì leader Don Francesco Ricci una figura a sua volta molto carismatica in ogni caso di Giussani mi colpì la sua capacità di toccare le corde esistenziali Giussani non partiva mai da un dogma dalla teologia da una ricorrenza e roba di questo genere Giussani partiva sempre da te Giussani parlava direttamente agli interlocutori e lo faceva in un modo per cui pareva che stesse parlando a te anche se magari c'erano 300 400 persone quindi aveva una particolare come posso dire aveva un particolare carisma esistenziale quindi io sto a GS 4 anni dal appunto dal settembre del 64 a tutto l'anno scolastico 1968 punto qui c'è una cosa da dire è vero che Comunione e Liberazione ha dei tratti di continuità fondamentali con GS a partire dalla figura di Don Giussani e degli altri gruppi dirigenti o parte dei medesimi che si erano consolidati a Milano Forlì a Rimini e così via tuttavia c'è una differenza fondamentale e la differenza fondamentale è questa Comunione e Liberazione diciamo come dicono gli inglesi ti accompagna dalla culla alla tomba from cradle to grave GS non era così anche per ragioni di giovinezza a me sembravano molto vecchi quelli più vecchi di me ma in realtà GS l'avevano costituita solo due anni prima è una cosa alla quale prestare attenzione perché è indice della capacità di GS di creare tradizione e la capacità di creare tradizione è un collante molto molto forte come si vedrà poi nei decenni successivi la differenza con tra GS e CL tra le altre è questa a GS c'erano diciamo degli autori consigliati no Charles Peggy poi J.K. Chesterton quello di padre Brown dell'uomo che fu giovedì l'osteria volante eccetera eccetera bene io non ne lessi uno perché non mi il diario di Bernanos il diario di un curato di campagna mi pare queste erano un po' dal punto di vista letterario le cose a me non interessavano e quindi non me le leggevo unica eccezione una specie di anticipazione della mia stima nei confronti degli inglesi e della loro assoluta tendenza alla indipendenza da tutti i punti di vista mi piaceva molto Chesterton anche anche forse per un fatto che era un cattolico in un paese non solo non cattolico ma fortissimamente anti-cattolico perché anti-irlandese anti-papista e tutte queste cose qua quindi essere cattolico nel Regno Unito era un affare ben diverso dall'essere cattolico per esempio in Italia credo anche da qui le ragioni della mia simpatia per il cattolicesimo ultraminoritario e quindi molto molto indipendente dal punto di vista del pensiero di Chesterton per il resto siccome con la metà degli anni 60 i libri diventano accessibili cosa la quale il mio amico Piero Meldini non ha dato grande importanza e temo che abbia commesso un errore di non pochissimo conto perché è vero che al movimento studentesco almeno nel primo anno non si vedeva gente con pile di libri sotto braccio che andava ai gruppi di studio è altrettanto vero che quei tipi i libri se li erano letti prima a casa dato che la lettura è prevalentemente una cosa individuale io arriverei a dire che in quegli anni lì subito prima del 68 o durante il 68 c'è stato un culto del libro per quanto perverso io non so quanti libri abbia rubato io personalmente e non ero certamente l'unico a farlo perché era uscito l'ultimo saggio di Leng però qui come facciamo lo pigliamo lo portiamo via cosa vuol dire questo vuol dire che dai primi anni 60 il ragazzino curioso e io certamente lo ero tra l'altro mi piaceva leggere pressoché a prescindere per me leggere una cosa meravigliosa tant'è vero che i miei pur essendo letterati ma non leggevano libri una volta finiti gli studi niente più libri quindi però avevano avuto consuetudine con i libri mi dice ma cosa stai sempre lì a leggere io dico a me leggere piace le passeggiate a marina fatele voi insomma non ci vedo niente di male a leggere queste cose in quegli anni succede una cosa importante perché i libri economici i cosiddetti tascabili i pockets che costavano veramente poco mi pare 350 lire quando cominciarono a uscire erano alla nostra portata il che fa una differenza enorme non solo erano alla nostra portata per il prezzo 350 lire ma ancora più importante non dovevi entrare in un posto dei grandi la libreria riminese andavi dal tuo edicolante sotto casa da noi si chiamava sante ed era comunista aveva l'edicola subito dopo il ponte di tiberio sulla destra dove adesso c'è un piccolo plot verde e quindi comprare un libro da sante non mi costava nessuna fatica psicologica entrare alla riminese che sta in pieno centro davanti al tempio malatestiano al duomo scusi buongiorno di qua di là è chiaramente tutta un'altra cosa per cui noi fummo probabilmente la prima generazione di italiani a leggere moltissimo fin dalla giovane età e tengo ancora questa linea sul libro dice ma vi servivano sti libri beh devo dire di sì in relazione anche al movimento per esempio io mi lessi la storia delle dottrine politiche di Gaetano Mosca un intelligente reazionario un antiparlamentare con parecchie buone ragioni poi basta guardare anche le vicende odierne dice a cosa ti servì leggere Mosca mi servì moltissimo perché quando nei gruppi di studio dovemmo dibattere il tema della democrazia rappresentativa diretta parlamentare o no io avevo tutto il mio bel armamentario di Gaetano Mosca che dissezionava il parlamentarismo denunciandone il trasformismo la non aderenza poi a una rappresentanza effettiva eccetera oppure sempre nell'universale la terza mi sono letto un godimento la storia d'Italia di Dennis McSmith che è venuto a meno pochi giorni fa in quest'anno di Grazia 2017 alla bella età di 97 anni londinese bene Dennis McSmith alla faccia della feccia accademica italiana che insorse praticamente come un solo uomo contro di lui raccontò una storia d'Italia unita quindi dal 1860 in là che non aderiva alla storia d'Italia tramandata dalla tradizione maggioritaria peraltro ricordo che nel 1961 per i primi cent'anni e chissà se è arrivato ai secondi dell'unità d'Italia distribuirono nelle scuole io ce l'ho visivamente presente come un bel libro con una copertina plastificata bianca con tocchi di rosso e di verde quindi la bandiera nazionale dove c'era la Costituzione ora io purtroppo ho un tratto di similarietà con i miei amici inglesi noi tendiamo a prendere le cose sul serio e io ho preso la Costituzione sul serio un errore madornale visto che la Costituzione nel vostro paese viene calpestata praticamente tutti i giorni addirittura c'è stato un tentativo fortunatamente non riuscito di effrazione orribile più che malvagia ignorante ma ignorante delle modalità di funzionamento dello Stato non così in astratto bene io purtroppo lessi la parte iniziale della Costituzione italiana e quindi quando qualche anno dopo io mi trovai a constatare che quegli auri e principi non trovavano assolutamente applicazione nel mondo della scuola io dissi benissimo io sto con la democrazia contro il regolamento scolastico mi pare che dal punto di vista dei principi gerarchici non ci sia partita quindi questo vale probabilmente magari solo per me però adesso parlo per me per me è certamente stato così andiamo in dirittura finale cosa succede a Rimini a Rimini succede questo nelle scuole riminesi che che ne dicano i sinistrorsi post factum la presenza di gran lunga più importante tra gli studenti e probabilmente anche tra gli insegnanti ma studenti e insegnanti tra le rarissime eccezioni appartenevano mondi diversi la presenza più importante tra gli studenti non era quella della componente di sinistra come la vulgarta degli ultimi 40 anni tende tende a dire la presenza più importante a Rimini era certamente quella cattolica e specificamente quella gessina da qualche parte nell'incontro di maggio del 2016 a Modena qualcuno ha citato che gli studenti medi erano nell'ambito regionale particolarmente vivaci a Reggio purtroppo non ho ritrovato questo appunto e l'appunto parlava sempre di un link importante tra questa particolare vivacità degli studenti medi di Reggio Emilia o nell'Emilia e una presenza importante dei cattolici a Reggio sia di carattere istituzionale che dei cosiddetti gruppi del dissenso Gess aveva una adesione non di tessere perché era tutta un'altra storia stimabile tra i 300-400 studenti che sono tantissimi su un totale di circa 6.000 distribuiti in tutte le scuole con delle punte di forza al classico dove Gess era peraltro nata nel 62 ma abbastanza stranamente presente per esempio anche a Liti dove invece mediamente le altre Gess avevano per ragioni credo di composizione sociologica e così via minori adesioni quindi io all'inizio dell'anno scolastico 67 e 68 ero uno studente della terza A del liceo classico ero al mio quarto anno direi di G.S partecipai ma senza saperne poi tantissimo al primo sciopero riminese di solidarietà con Liti di Forlì e questo primo sciopero fu sabato 28 ottobre peraltro anniversario della marcia su Roma tutt'oggi gli italiani amano moltissimo Mussolini purtroppo Mussolini non è stato storiograficamente digerito Mussolini è a tutt'oggi molto importante per una ragione fondamentale l'Italia è diventata moderna sotto Mussolini quindi l'Inps le case di vacanza i treni le robe le case popolari e così via che si sarebbero comunque fatte si fecero sotto legida del fascismo da cui una comprensibilmente popolare nostalgia nei confronti del fascismo in generale e di Mussolini in particolare devo aggiungere che gli italiani a differenza del sottoscritto sembrano nutrire una particolare affezione per i padri forti si vede il fenomeno dei 5 stelle e di Beppe Grillo sono cose che mi fanno orrore e che mi confermano nella mia scelta di esodo si dice del febbraio del 1981 da questa configurazione nella quale vivo perché ci sono nato ma che non mi non mi corrisponde insomma gli scioperi ebbero origine quel sabato 28 ottobre il clou lo raggiunsero lunedì 30 ottobre quando tutte le scuole riminesi fecero sciopero poi in alcune lo sciopero venne fatto anche il giorno dopo martedì 31 per esempio al Valturio che il sabato non aveva scioperato posso chiederle una cosa prego perché fanno sciopero le scuole riminesi allora prima bisogna dire perché fanno sciopero le scuole forlivesi le scuole forlivesi fanno sciopero perché avevano un orario insopportabile l'orario dell'IT di Forlì e anche delle scuole professionali di Forlì non c'è scritto mai da nessuna parte ci si potrebbe arrivare ma insomma non c'è mai scritto da nessuna parte quali scuole professionali però si dice sempre le ragazze delle professionali a Forlì entrano in sciopero perché avevano alla settimana facendo naturalmente tutte le sei mattine da lunedì al sabato avevano ben tre rientri pomeridiani per fare il trapano gli esercizi quelle cose lì due di due ore e una di tre ore il che voleva dire che se uno veniva da Morciano doveva pigliare la corriera e arrivare a Rimini o a Cattolica quello che era lì prendere il treno e arrivare a Forlì poi dalla stazione fortunatamente erano alcune centinaia di metri panino perché non credo che avessero grandi mezzi ritorni dentro esce alle 5 e mezza magari l'ultimo treno è partito 5 minuti prima per cui sia a Forlì che a Rimini a Rimini per esempio in zona Arco d'Augusto un po' proprietà della Curia un po' privati c'erano dei dormitori per quelli che non riuscivano a mantenere questo tipo di ritmo ora siccome nella tradizione italiana prevale un insulso idealismo questi scioperi che mossero migliaia di persone a Forlì e a Forlì durarono due settimane due settimane con coinvolgimento di sottosegretari parlamentari sindaci ok e vinsero nel senso che alla fine il sottosegretario di C alla pubblica istruzione Giovanni Elkan sollecitato dai parlamentari locali che dicevano qui bisogna stringere e fece passare l'ipotesi dell'orario unico è un'importanza enorme vuol dire che io per tre giorni alla settimana invece di star lì e mangiare il panino con la mortadella prendo un treno alle due e me ne torno a casina mia che è tutta un'altra cosa bene questa cosa qui gli idealisti italiani dice ma sì erano scioperi sindacali erano scioperi corporativi gli obiettivi erano insomma una questione mi sembra di ricordare di orari di corriere complimenti ma complimenti tanto non eri tu che dovevi fare i tre rientri alla settimana e farti un culo tanto a dormire in un posto l'ercio e fare spendere soldi ai tuoi genitori e roba di questo genere e B gli studenti deliti di Forlì dopo qualche giorno lanciarono un appello alla solidarietà di tutti gli istituti medi superiori della provincia non solo gli iti che c'erano anche a Cesena a Ravenna per i fatti loro a Rimini e così via lanciarono un appello a tutti e lì secondo me c'è il punto di svolta perché un conto è scioperare in proprio per un obiettivo che è quello per il quale fare di tutto ma scioperare in solidarietà con qualcuno non avendo tu alcuna tua propria agenda rivendicativa è tutto un altro paio di maniche cosa successe? successe che lo scioperare del sabato 28 già andò bene e ci fu un radunarsi nella cosiddetta sala mostre del distrutto teatro comunale di Rimini la giornata clou è lunedì come ho detto prima 30 ottobre il Carlino che all'epoca aveva ancora un atteggiamento da quotidiano di informazione riportava quello che succedeva senza bene il Carlino dice sono sfilati a Rimini 4.000 studenti 4.000 sono un numero impressionante cioè vedere sfilare 4.000 persone ci mettono dei minuti a passare 4.000 4.000 persone bene visto il grande successo di queste due giornate di sciopero che poi in alcuni istituti tipo il Valturio dicevo prima furono replicati anche il giorno dopo al classico invece durarono due giorni sabato e lunedì a quel punto questo almeno il mio ricordo il presidente di G.S. che era laimè scomparso da alcuni anni Sandro Bianchi all'epoca studente di lettere a Bologna 23enne direi fece praticamente questo ragionamento qui abbiamo fatto gli scioperi gli scioperi sono andati molto bene allora facciamo come fanno i sindacati che c'è il momento dello sciopero e c'è il momento della trattativa abbiamo dimostrato di avere una grande forza bene dobbiamo farla pesare questa grande forza e in totale accordo a riguardo con la FGC fu lanciato l'obiettivo tra la domenica 29 di ottobre e i giorni successivi per i comitati di istituto quindi elezioni di rappresentanti di classe formazione dei comitati e via andare questa cosa avvenne i presidi traccheggiarono per un po' sono interessanti tra l'altro i documenti del liceo classico che siamo riusciti con Elisa Gardini e Luca Rossi a ritrovare perché da lì si vede direttamente la reazione per esempio dei professori a un certo punto il 9 c'è un collegio dei professori il 9 di novembre quindi pochi giorni dopo la conclusione di e mentre stavano trattando per i comitati dove nel verbale a firma del professor Sergio Ceccarelli c'è scritto dice i nostri alunni hanno scioperato virgola quasi tutti e se lo scrive Ceccarelli c'è da credergli perché certamente non era un simpatizzante bene durante l'inverno si insediano i comitati io sulla base delle mie letture di Gaetano Mosca non mi presento alle elezioni perché non ci credevo perché mi pareva che fosse già tutta un'altra storia perché quando si vedono migliaia di persone in giro hai voglia i rappresentanti quello che contano sono i 4.000 che sono in giro per strada non i fighetti che sono riusciti a farsi leggere per un verso o per un altro comunque verso la metà di novembre vengono alletti i comitati nelle scuole che avevano fatto gli scioperi di solidarietà quindi non alliti perché l'iti ottenuto il risultato per un anno sia a Forlì che a Rimini non fanno altro si godono l'orario unico i comitati vengono ottenuti invece dalle scuole che avevano fatto gli scioperi di solidarietà le magistrali il classico il Valturio e forse basta magari me ne sono e i serpieri il liceo scientifico bene questi si insediano naturalmente rimediano poche niente perché la gita dove la facciamo perché compriamo o non compriamo le macchine distributrici di merendine e roba di questo genere passa l'inverno l'inverno naturalmente è costellato di manifestazioni studentesche che iniziano almeno in Italia erano iniziate già alcuni anni prima ma insomma diventano importanti a partire dall'occupazione della Cattolica di Milano che è del 17 di novembre con errori clamorosi da parte del Consiglio d'amministrazione del Rettore Franceschini e segue l'Università di Torino con l'occupazione di Palazzo Campane poi pian piano è un alluvione perché si va a vedere manifestazioni a Parma qui là sopra e sotto con una netta prevalenza comunque del nord e del centro nord finché si muovono i medi i primi studenti medi a muoversi sono il che non sorprende per la radice cattolica di cui parlavo prima il liceo Parini di Milano e il liceo Bershè di Milano che erano simultaneamente e i licei dei ceti agiati dirigenti della borghesia laica e anche cattolica milanese ed erano per le ragioni che ho tentato di dire prima anche due roccaforti di IGS il 66 aveva visto peraltro Alparini il famoso virgolette scandalo della Zanzara che era il giornalino scolastico del liceo il preside era un riformista il professor Daniele Mattalia il primo occupare è il Bershè e qui c'è la totale impreparazione e come si può dire incapacità insomma i tratti caratteristici della pubblica amministrazione italiana particolarmente agli alti livelli per cui a studenti che chiedevano cose ragionevolissime che andavano dalle tasse all'organizzare in modo diverso i corsi al tenere in modo diverso le istanze di valutazione eccetera si chiama la polizia e via fantastico avete fottuto una rarissima occasione di cambiamento l'avete fatto nel modo peggiore possibile avete radicalizzato una generazione che avrebbe potuto avere ben altri sbocchi avete rafforzato all'interno degli studenti le componenti più estremistiche perché è evidente che nel momento in cui lo Stato mette i piedi sul piatto e fondamentalmente dice non ce ne frega un cazzo delle vostre richieste dovete obbedire e zitti a quel punto all'interno del movimento gli elementi ragionevoli non hanno strada non hanno strada hai voglia proporre controcorsi assemblee deliberanti eccetera perché rispetto a un atteggiamento così ottuso particolarmente dei prefetti comandati dal democristiano già resistente Paolo Emilio Taviani il quale fece una circolare segreta ai prefetti direi nel 66 dicendo siccome già da tempo insomma le cose le acque stavano muovendo dice no no stroncare reprimere prefetti e via e via andare arriviamo alle conclusioni abbiamo 10 ah ma infatti arriviamo alle conclusioni nel senso che passa il capodanno arriviamo verso la fine dell'inverno sia sul versante Gessino c'è un numero di rimi studenti che ancora credita che i comitati di istituto integrati dai genitori quello quell'altro quell'altro forse chi lo sa potevano fare qualcosa ma sono ormai cose dette con scarsa convinzione alla fine di febbraio sull'altro versante quello dei partiti di sinistra e laici c'è un convegno cittadino di cui ho scoperto l'esistenza solo ieri sui comitati di istituto ma anche lì non si va più da nessuna parte finché con un'iniziativa molto ben coordinata tra le quattro scuole principali nella settimana che va dal lunedì 18 marzo 68 che poi è la notte dei fuochi di San Giuseppe al Fugarazi all'epoca prima dello sterminio attuale da sanitarismo americano c'erano in tutta la Romagna ci sono state fino a qualche lustro fa una festa autenticamente popolare che erano le fogheracce di San Giuseppe bene durante quella settimana le quattro scuole fanno le assemblee e decidono stringo di occupare i propri istituti la settimana successiva in modo cadenzato quindi voglio dire il movimento studentesco di Rimmi non è che ha fatto una roba così 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 siccome era ampiamente strutturato da una parte da AGS dall'altra parte dai movimenti giovanili formali o informali che fossero con una prevalenza ma non debordante tra questi ultimi della federazione giovanile comunista italiana l'iniziativa viene fatta in questo modo la settimana successiva coincidente con la fine del secondo trimestre occupano per due giorni il liceo classico Giulio Cesare di Rimini e l'istituto commerciale per ragionieri e geometri Roberto Valturio ed occupano lunedì 26 direi di sì 23 no lunedì 25 marzo e martedì 26 alle magistrali trovano un accordo tra insegnanti progressisti movimento eccetera per cui insomma durante la notte vanno via la sera del secondo giorno cioè la sera di martedì 26 arriva la polizia perché il procuratore della Repubblica Domenico Scarpa aveva emanato un non so come si chiami che praticamente prevedeva fino a un massimo di 5 anni si calcoli che noi avevamo 18 anni fino a un massimo di 5 anni per gli organizzatori di interruzione di pubblico servizio è chiaro che quelli che erano rimasti dentro sono usciti in buono ordine senza fare problemi eccetera il Carlino esce tipo sono stati ragionevoli hanno dato retta ai prestiti eccetera eccetera c'è una menzogna perché invece c'era stato un intervento della magistratura e della polizia seppure senza esiti catastrofici anche senza senza denunce però c'era stato altrimenti l'occupazione sarebbe andata avanti a quel punto durante la notte di martedì cioè la notte stessa dell'abbandono delle occupazioni il comitato cittadino ciclostila un volantino lo distribuisce già la mattina dopo mercoledì mattina quindi anche lì una capacità organizzativa non da poco nel senso ci avete disoccupato ieri sera benissimo e noi siamo qui a rompere i coglioni la mattina dopo distribuzione dei volantini nelle scuole adesione compatta studenti che non ce la facevano entrare nella pur capiente sala del dell'arengo sitin davanti al resto del carlino per proteste e così via appunto nelle settimane successive che cosa avviene fondamentalmente la fase sciopere assemblee occupazioni è finita anche perché manca poco alla fine dell'anno e non è che fossimo pazzi vanno avanti invece i gruppi di studio i gruppi di lavoro gli approfondimenti queste faccende qui ci sono diverse istanze di apertura alla cittadinanza una secondo me concordata questa sarebbe una buona domanda per Nando praticamente nel volantino che lo documenta il movimento sudantesco chiama ad una assemblea cittadina un sabato pomeriggio quindi un'assemblea cittadina fuori da orario scolastico eccetera io avevo l'impressione che la cosa fosse stata concordata col sindaco da cui tra l'altro la mia stima nei confronti di Walter Ceccaroni però non lo so bene come sono date le cose lo si potrebbe chiedere a Nando moltissime sono le occasioni di confronto all'interno del mondo cattolico sono troppe perché io le posso citare tutte a partire dal più importante che avviene pochi giorni dopo domenica 7 aprile introdotta da una relazione del dottor Ugo Trivellato del gruppo del Mulino come area di riferimento dell'Università di Padova un riformista diciamo per quanto riguarda la scuola c'è questo questo incontro cittadino sala della Rengo domenica mattina strapiena io faccio una relazione su su quello che era successo tra ottobre e marzo e lì leggiamo un documento che verrà pubblicato nel libro dell'istituto il documento frutto del lavoro dei gruppi di studio del liceo classico che indicava non una piattaforma rivendicativa come dire già tutta strutturata ma indicava fondamentalmente una strada da percorrere un processo da seguire diciamo che dal punto di vista della nostra impostazione eravamo certamente più vicini all'ala tedesca di Rudy Dutsche e la lunga marcia attraverso le istituzioni che al maledetto protagonismo narcisistico francese che verso la seconda metà del ventesimo secolo resuscita le varie marianne le barricate spettacolo peraltro e roba di questo genere concluderei dicendo che il maggio francese questa è una tese un po' estremistica forse ma è stata la tomba del 68 perché per una serie di fattori voluti da nessuno a volte le cose semplicemente si incastra in un certo modo si è creato un confronto verticale tra il regime gollista il padronato l'esercito francese e tutti i poteri costituiti e dall'altra parte gli studenti buona parte dei sindacati eccetera da questo confronto verticale il movimento studentesco è uscito annichilito annichilito e purtroppo non hanno solo perso improprio hanno perso anche per noi nel senso che da quel punto in poi la strada tedesca schematizziamola così era diventata molto più difficile della strada francese che però corrispondeva moltissimo al mai morto d'annunzianesimo italiano purtroppo di lunga durata due domande a bruciapelo posso quali erano le motivazioni cioè le parole d'ordine dell'occupazione a Rimini perché le motivazioni dell'occupazione a Rimini erano vogliamo l'assemblea vogliamo l'assemblea deliberante questo era il punto a marzo persi i comitati e non ignorati gli altri strumenti ma il punto fondamentale era i comitati hanno fatto fallimento la democrazia rappresentativa è una cosa riformista non funziona diamo la parola direttamente agli studenti lo facciamo con l'assemblea la quale può articolarsi in portavoce non dirigenti portavoce comitati di base di istituto e gruppi di lavoro sempre di istituto ma tutti questi come strumenti del plenum è l'assemblea che comanda questo era l'obiettivo fondamentale a Rimini e praticamente dappertutto avevate rapporti con gli operai le fabbriche oppure allora come dico sempre io un conto sono gli studenti un conto è il movimento studentesco per capire com'è venuto fuori il movimento studentesco bisogna capire gli studenti perché il movimento studentesco è venuto fuori dico una banalità ma una banalità spessa ignorata è venuto fuori dagli studenti allora che rapporto potevo avere io con gli operai nessuno 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 il rapporto del movimento studentesco che è l'esito del movimento degli studenti iniziano nell'autunno successivo nell'anno scolastico 68-69 parliamo sempre di studenti medi allora lì un movimento studentesco che alla fine dell'anno scolastico precedente si era strutturato a quel punto comincia ad avere dei rapporti per esempio fa di sicuro lo sciopero assieme ai sindacati per il superamento delle gabbie salariali quando c'è poi l'ecidio dei braccianti agricoli ad Avola gli studenti partecipano a numerose manifestazioni sindacali di protesta contro la brutalità della polizia e così via però per quanto riguarda l'anno che è stato oggetto delle nostre ricerche cioè il 67-68 mi viene da dire rapporti con operai organizzati o non organizzati nessuno tranne tranne e potremmo chiedere su questo nella primavera c'è uno sciopero inaspettato in una zona bianchissima del paese che è la provincia di Vicenza Valdarno Conte Marzotto paternalismo padronale le casine per gli operai eccetera eccetera operai a loro volta cattolici e democristiani Cislini insomma certamente una zona in cui la CGL contava poco e niente per non dire del partito comunista il primo operaio che sia arrivato nella sede dell'astrolabio che dalla fine della primavera il circolo omonimo passò al movimento studentesco no così rispondo alla domanda perché non è vero nessuno fu con un giovane operaio che veniva da Valdarno e che veniva soprannominato Valdarno dormiva al pian terreno del palazzo Brighenti nella via omonima dove c'erano i cenciaioli di Emmaus che erano una calamita piuttosto notevole di dropouts di vario genere tra i quali c'era questo giovane operaio il quale voglio dire potendo vantarsi di avere fatto parte delle giornate contro il conte Marzotto presto di noi godeva di un qualche credito va bene ah si chiedo scusa se no mi trascinevo